L'emoglobinuria parossistica notturna è un campo veramente di continua ricerca e scoperta di nuovi agenti e di nuove modalità di trattamento soprattutto. Diciamo che all'ultimo congresso della società europea sono stati portati gli aggiornamenti di tutti questi studi con nuove modalità di trattamento dell'emoglobinuria che arriveranno presto nelle realtà cliniche di ognuno di noi che gestisce l'emoglobinuria e che ci permetterà di migliorare la gestione terapeutica di questi pazienti. Nello specifico nello studio 307 ole sono stati convogliati tutti i pazienti che avevano partecipato a precedenti trial con Peggetacoplan che è un inibitore prossimale del complemento che agisce a livello del C3. Quindi laddove la via classica, la via alternativa e la via della lectina che sono le tre vie di attivazione del complemento convergono. Questo farmaco si somministra per via sottocutanea due volte alla settimana e quindi il paziente può somministrarlo da sé al domicilio quindi è particolarmente convenient per il paziente, si tratta di un'infusione sottocutte della durata di circa un'ora. Questi pazienti che hanno partecipato ai precedenti trial sono stati poi convogliati in questo studio OLE sta per Open Label Extension, quindi un lungo follow up di estensione di questi protocolli e sono stati riportati all'ultimo congresso della società europea i dati aggiornati a oltre 48 settimane di trattamento con Peggetacoplan all'interno di questi studi e diciamo che i dati aggiornati sono davvero interessanti perché confermano l'efficacia di Peggetacoplan in questi pazienti nel migliorare i livelli di emoglobina e nel poter dare addirittura una quasi normalizzazione dei livelli di emoglobina in circa il 40% dei pazienti, quindi un dato assolutamente importante e la capacità di garantire un'indipendenza dalle trasfusioni anche qui in oltre l'80% dei casi, quindi ancora una volta un dato veramente impattante sulla gestione clinica della malattia. Quando parliamo di inibitore prossimale del complemento pensiamo già che stiamo inibendo un meccanismo fisiologico di protezione nei confronti di agenti infettivi, ovvero la cascata del complemento, in maniera un po' più marcata rispetto all'inibizione che attuiamo con gli inibitori del C5 perché blocchiamo la cascata del complemento più prossimalmente. C'è da dire che tutti i pazienti trattati con inibitori prossimali del complemento all'interno degli studi clinici venivano vaccinati con dei vaccini anti batteri capsulati, non solo rivolti contro il meningococco che classicamente viene profilassato anche nei pazienti trattati con gli inibitori del C5, ma anche con vaccini anti pneumococco e anti emofilus influenza, proprio come si fa nei pazienti sottoposti a splenectomia. Quindi sicuramente una copertura vaccinale più ampia può avere un impatto favorevole nel non osservare poi eventi infettivi da parte di questi agenti. I dati diciamo di follow up degli studi con gli inibitori prossimali sia il pericetacopla ma anche dati su altre molecole prossimali, inibitori prossimali, fanno vedere come non ci sia stato un eccesso di rischio infettivo rispetto a quanto atteso nella popolazione con l'emoglobinuria parossistica notturna trattata con l'inibitore del C5. Sicuramente i dati più maturi li abbiamo proprio dagli studi con Pecetacopla e nell'ultimo congresso della società europea è stato portato uno studio molto interessante che mette proprio a confronto l'incidenza di eventi infettivi nei pazienti trattati con Pecetacopla rispetto al periodo precedente al trattamento e si vede come l'utilizzo di Pecetacopla seppure per un periodo prolungato non dà luogo ad un aumento dell'incidenza di questi eventi infettivi. Per quanto riguarda il rischio trombotico l'emoglobinuria parossistica notturna ha proprio la trombosi come principale causa di morbidità e mortalità. Per quanto appunto il follow up sia lungo sugli inibitori terminali del complemento sappiamo un po' di meno invece sulla protezione nei confronti del rischio trombotico da parte degli inibitori prossimali. Per cui è necessario continuare a raccogliere dati sia dai trial clinici che dati real world che ci facciano capire quale sia la protezione che questi inibitori prossimali possono dare nei confronti del rischio trombotico. Ebbene all'ultimo congresso della società europea sono stati riportati dei dati aggiornati e real world sull'utilizzo di Pecetacopla che mostrano come questo rischio trombotico sembra essere ben controllato anche con l'inibitore prossimale Pecetacopla. La real world e le esperienze che poi ci portiamo nella pratica clinica con questi nuovi farmaci sono fondamentali, sono un po' la palestra di queste nuove molecole nel trattamento e nella gestione delle malattie rare come l'emoglobinuria parassistica notturna. E all'ultimo congresso della società europea sono stati riportati dei dati real world molto importanti su Pecetacopla per quanto riguarda il profilo di rischio infettivo e di rischio trombotico nei pazienti EPM e devo dire che sono dati veramente rassicuranti e che mostrano un profilo molto favorevole della molecola anche quando studiata al di fuori dei tradi alchimici.